Ciao a tutti e benvenuti nel video di presentazione ufficiale del Compact Foundation Puro Biocosmetics. È un prodotto che attendevate da tantissimo. Questo fondotinta compatto è molto leggero sulla pelle. La sua texture è impalpabile ed è ottimo per pelli da normali a grasse. Si presta benissimo alle pelli esigenti, come le pelli acneiche. Allo stesso tempo, gli elementi leviganti presenti in formula lo rendono ottimo per delle pelli mature. La formulazione è inoltre arricchita da burro di karité, olio di macadamia, olio di avocado e tantissimi altri strati vegetali. La coprenza è medio-leggera ma è modulabile, quindi è possibile stratificare il prodotto per ottenere la coprenza desiderata. È disponibile in sei tonalità, sia nel packaging che nel refill. È molto pratico da portare con sé per ritoccare il trucco durante la giornata. L'applicatore è stato appositamente studiato per ottenere un risultato uniforme ed è contenuto sia nel packaging a doppio fondo ma anche nel formato refill. Potete anche applicarlo col vostro pennello preferito. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. In infobox trovate tutte le informazioni aggiuntive e non dimenticate di seguirci anche su Facebook e Instagram. Ciao!